Sabbia, sabbia e ancora sabbia. La Dakar quest'anno non fa sconti e non concede il riscaldamento di alcune tappe morbide in avvio. La seconda ha visto i piloti infilarsi a capofitto nel tremendo deserto peruviano fare la rotta tra le immense dune sabbiose che caratterizzano l'impervio paesaggio centroamericano. Dai 242 chilometri di speciale svolti Sidae verso Pisco, quasi totalmente percorsi all'interno del deserto che ha inghiottito auto, moto, cuo de camion, sono spuntate le solite certezze con qualche sorpresa. Barreda, tra le moto, chiude la tappe in due ore 42.31, rifilando oltre tre minuti a Pedrero, cinque a Fische. In classifica generale Faria il primo inseguitore, mentre il favorito Desprez sonnacchia poco meno di nove minuti dal battistrada. Zanotti si attesta in 92esima posizione, vittima della malasorte. Dopo appena 75 chilometri, infatti, il centauro sanmarinese ha rotto il parafango anteriore a seguito di un fondo corso della forcella. Ciò non bastasse, il parafango spaccato ha tranciato di netto il sistema di navigazione della sua TM, costringendo il campione del mondo Bahia a trovare la giusta via nel deserto peruviano. 25 chilometri più tardi, il problema è nel serbatoio. Quando inizia a svuotarsi, la moto perde di brillantezza. Tra le auto brilla l'immensa stella di Peter Ansell, che si aggiudica la seconda tappa, balzando in testa la generale con un vantaggio di 2.38 sul sudafricano De Ville, seguito a breve distanza da Chabot. Carlos Sainz, vincitore di prima tappa, chiude un dicesimo pagando un ritardo di oltre 18 minuti. Buon terzo posto tra i camion per Biesione, che in team con Fiori e Usman scala la generale fino al gradino più basso del podio. De Roi e la Prais guidano la generale. Nei quod e poche sorprese con l'argentino Patronelli, che in tappa anticipa Usseini e Casale, lo stesso terzetto che si propone nel quadro complessivo. Oggi la terza tappa da Pisco a Nazca. Non mancherà certo la sabbia, che continuerà a fare selezione fin da subito. 243 chilometri di speciale ci diranno se Alex Zanotti riuscirà a recuperare parte dello svantaggio che lo ha condizionato all'esordio. Alex Zanotti è pilota vero. Non a caso è un campione del mondo. Il centauro bianco-azzurro lo ha confermato ancora una volta con una grande prova nella terza tappa da Pisco a Nazca. Dopo 343 chilometri, il pilota della TM ha chiuso la frazione in 55esima posizione. Un risultato che ha permesso al Samarinese di recuperare ben 25 posizioni nella classifica generale. Peccato per quella seconda tappa condizionata dai problemi al navigatore, che hanno fatto accumulare troppi minuti di ritardo. Rimontare altre posizioni è l'obiettivo di Zanotti, che ha tutte le capacità per farlo. La Dakar resta una gara affascinante, soprattutto a Vincente. Cambia infatti il leader della classifica delle moto con il francese Cyril Depree al comando, con 2 minuti e 51 sul cileno Francisco Lopez, vincitore proprio della terza tappa. Il primo degli italiani è Botturi in undicesima posizione con un ritardo di 11 minuti. Nella gara delle auto si è imposto Naser Alatia, il pilota del Qatar è secondo in classifica, a 6 minuti e 33 dalla mini del francese Peter Ancel. In ritardo Carlos Sainz, solo decimo a 42 minuti. Tra i quad, l'argentino di origine italiana Petronelli ha vinto la terza tappa e guida la classifica generale, con oltre 4 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori. Tra i camion, Biazon con Fiore e Jusman chiude terzo e mantiene la stessa posizione nella classifica generale, guidata sempre dagli olandesi Derui, Rodewald e il belga Colsoul, nella quarta tappa di oggi, 429 km da Nazca ad Arequipa. Si è chiusa nel segno delle francesi Olivier Pen la quarta tappa della Dakar, 720 km da Nazca a Arequipa, una prova contrassegnata dai lunghi tratti della Pampa Blanca, il temutissimo deserto del Peru. Non solo sabbia però in una speciale che ha portato i concorrenti della 34esima edizione del ride sudamericano a raggiungere i 2200 metri di altitudine. Una gara durissima che ha visto il successo dello spagnolo Barreda alla seconda vittoria di tappa nella Dakar 2013. Secondo posto è primato in classifica generale per il francese Olivier Pen, il pilota della Yamaha, a ora un vantaggio di 2 minuti e 24 secondi sul canazionale Castot, mentre il grande favorito Cyril Desprez ha chiuso la speciale al 14esimo posto ed è scivolato in terza posizione nella graduatoria generale. Perde due posti anche Alex Zanotti che dopo le prime quattro prove occupa la 69esima posizione assoluta. Dopo aver recuperato una decina di posizioni nella prima parte della speciale, il pilota samarinese perdeva terreno nel terzo tratto cronometrato. Di lì cominciava la solita rimonta che permetteva a Zanotti di limitare i danni in una tappa particolarmente insidiosa e con numerose cadute, per fortuna, senza gravi conseguenze. Nelle auto è arrivata la seconda vittoria di tappa per Alatia. Il pilota del Qatar ha recuperato oltre un minuto al leader della classifica, la francese Petrancel al volante della Mini. Continua invece ad accusare problemi tecnici lo spagnolo Carlos Sainz, precipitato in ventiquattresima posizione con un ritardo di oltre tre ore. Giornata da dimenticare per Miki Biesion, il due volte campione del mondo rally, è stato vittima di un insabbiamento con il suo camion Iveco. Oggi si corre la quinta tappa da Arequipa ad Arica di 410 chilometri, di cui 274 di prova speciale. Da non sottovalutare le caratteristiche della prova, si parte da 2000 metri di altitudine e si scende fino all'arrivo della speciale di Arica, località situata a circa 200 metri sul livello del mare. Un dislivello notevole e un percorso in gran parte roccioso, terreno ideale per gli specialisti dell'enduro. Il mio regno per un cavallo, non parliamo del Riccardo III di Shakespeare, ma nella trasposizione tragica odierna anche Alex Zanotti, impegnato nella sua personalissima battaglia, chiamata Dakar, potrebbe esclamare quelle parole. La nuova creatura prodotta ad hoc dall'ATM, su cui Alex si è messo prima al lavoro, poi in sella, in fretta e furia, sembra tutt'altro che l'emblema della tranquillità. Anche ieri, infatti, nella quinta tappa che ha visto i corridori scollinare fino oltre il confine del Cile, i soliti problemi di carburatore e benzina hanno condizionato la prova dell'iridato Bahia, che chiude in quasi due ore e mezzo, facendo segnare il 139esimo tempo di giornata, testandosi in centesima generale. Quello della benzina di qualità è un problema trasversale. Lo stesso Barreda, uno che avrebbe potuto giocarsi da Dakar fino in fondo, ha perso oltre un'ora nella tappa di ieri. L'obiettivo in casa Zanotti è arrivare tranquillo al giorno di riposo, fissato per domenica, nel tentativo di risolvere i problemi cronici che i tecnici della TM a seguito del San Marinese non sono riusciti ad appianare in questi giorni. La moto nuovissima, dunque non collaudata, era un'incognita tenuta in considerazione da Zanotti e dal suo staff che valutava un arrivo nei 30 come un vero e proprio successo. Ora la classifica non è certo la prima preoccupazione del San Marinese, che prima di tutto dovrà tentare di risolvere i problemi tecnici per provare a prendersi qualche soddisfazione. Vittoria di tappa per Castot che precede Penn di poco più di un minuto, posizioni che si invertono con lo stesso distacco in generale dove Desprey insegue due connazionali a sei minuti dal primo. Patronelli è padrone assoluto dei quad dove il suo vantaggio sul secondo sale a un'ora e diciotto minuti dopo il successo di ieri. Controlla Peter Ancel nelle auto incrementando il suo vantaggio su Al Atia arrivato a quasi dieci minuti. A meno di clamorosi imprevisti, il titolo sarà a fare tra loro due. Nei camion Biazion arriva settimo a cinque minuti dall'olandese Stacy Reditappa, che conduce sempre ad Eroi con un vantaggio di cinque minuti e mezzo su Nikolaev.